Ciao colleghi, è un piacere essere qui ancora con voi per parlarvi della grande novità del 2021. Greenas, la nostra linea SLS free, SLS free, priva di parveni, petrolati, siliconi di natura chimici. Una linea che si affaccia al mondo green, rispettosa dell'individuo e anche del pianeta che ci circonda. Oggi parleremo di una novità, della linea curative, una linea energizzante, quella che noi impropriamente nei nostri saloni chiamiamo linea anticaduta. Shampoo e lozione, uno shampoo naturale al 99%, trasversale, in grado cioè di trattare i problemi di forfora, i problemi di seborrea e contemporaneamente di energizzare il cappello. Quindi uno shampoo preparatore a 360 gradi. A seguire parleremo anche della lozione, naturale al 90%, e arricchita con tea tree, caffè, ortica, artemisia e mentone. Unendo questi due prodotti riusciamo a creare due distinte routine. Seasonal curative routine e intense curative routine. La prima pensata per tutti quegli indebolimenti stagionali, quindi da utilizzarsi in primavera e autunno applicando una lozione a settimana per prepararci ai periodi di caduta più intensa. Intense curative routine invece comincia sempre al lavaggio, come vedremo successivamente, ma prevede l'applicazione di due lozioni a settimana per il primo mese, poi a seguire una sola lozione. Si tratta questo di un trattamento d'urto e intensivo, pensato per tutte quelle clienti che vedono indebolirsi il capello tutto ad un tratto. Le ragioni possono essere molteplici. Una dieta sbilanciata, un periodo di stress particolarmente intenso. Il camera mi sta facendo segno che sto parlando troppo. Direi che è ora di iniziare a lavorare. Andiamo al lavaggio. Iniziamo il nostro rituale con curative shampoo, naturale al 99%, uno shampoo trasversale, una soluzione unica a tre problemi. Mentolo per regolare la seborrea, artemisia per trattare la secchezza cutanea e la forfora ed infine le sostanze energizzanti per preparare la cute a ricevere gli attivi della lozione. Terminati il risciacquo dello shampoo, ho applicato un condizionatore per riuscire a districare la lunghezza ed è ora il momento dell'applicazione di Curative Lotion. Grazie al comodo beccuccio dosatore posso andare ad applicare direttamente il prodotto in cute e poi procedere al massaggio. Vi anticipo già che seguirà un ulteriore video in cui illustreremo una tecnica di massaggio proprio sulla nostra amica Sofia. Su Sofia andremo ad applicare la lozione due volte alla settimana, andando quindi a seguire il rituale intense curative routine. Sofia infatti non soffre di un indebolimento stagionale, i classici due periodi all'anno. Lei è una sportiva professionista, quindi in seguito agli allenamenti costanti e alla forte sudorazione, quindi all'iperidrosi derivate da questo sforzo di natura sportiva, il capello si è pian piano indebolito, ha perso la propria verva. Per questa ragione scegliamo appunto il trattamento d'urto, intense curative routine. Ottimo, abbiamo terminato ora la prima applicazione della nostra intense curative routine. So che tu Sofia procederai a casa con il vostro trattamento, quante applicazioni a settimana? Due. Due, ottimo Sofia. Andiamo a vedere ora il risultato finale. Capigliatura lucida, morbida, come già detto in occasione di altre prove Greenhouse, un capello particolarmente pulito, come accade sempre quando non abbiamo siliconi, forte ed energizzato già dalla prima applicazione. Sei contenta amica mia? Molto. Perfetto. Alla prossima amici.